Una nuova coscienza civica, ma anche una nuova consapevolezza di ciò che abbiamo, del valore che abbiamo in termini di uomini e cose nel nostro territorio, ridisegnando questa identità della nostra città. Abbiamo approvato il piano strategico, questa città dell'arte che si lega con la città della tecnologia, il centro storico passa per il MAB e arriva all'Università della Calabria. Noi dobbiamo valorizzare questo, dobbiamo puntare ad inserire la nostra città in un circuito conoscitivo che vada al di là del nostro territorio. Dobbiamo sentirci tutti, tutti, nessuno escluso, l'orgoglio di essere cosentini, ma un orgoglio che non sia un orgoglio enfatico e vuoto di contenuti.